Il mondo dei sogni ha sempre suscitato l'interesse dell'umanità e, anche così, ai nostri giorni non siamo ancora riusciti a comprenderne i meccanismi e le finalità. Nell'antico Egitto le cose non erano molto diverse da adesso in questo senso, erano piuttosto preoccupati di cercare di capire cosa stesse accadendo nell'inconscio. A questo proposito, una delle scoperte più speciali che sono state fatte in questo campo si trova sul retro di un papiro, ed è stata trascritta dallo scriba Keneri e Pescef. Questo papiro contiene un elenco di 108 sogni che all'epoca erano considerati dai loro contemporanei messaggi divini, che custodivano l'annuncio del futuro che attendeva colui che li aveva sognati. Secondo John Romer, l'egittologo che si è dedicato al suo studio, per gli egiziani la vittoria o la sconfitta avevano un grande valore, così come la paura della mancanza di cibo, della morte violenta o della mutilazione. Tanta era l'importanza che davano loro. Che avevano anche rimedi contro i brutti sogni. Per evitare le catastrofi annunciate bisogna mangiare appena svegli i pane fresco ed erbe macerate, pronunciando le seguenti parole. Vieni da me. Vieni da me. Madre Iside. Guarda. Percepisco ciò che è lontano dalla mia città. Alcune delle chiavi che usavano per interpretare i sogni erano le seguenti. Se qualcuno si vedeva, per esempio, seppellire un vecchio, questo veniva interpretato come un buon segno poiché veniva identificato come un segno di prosperità. Tuttavia, se bevevi birra era presagio di sofferenza o se, al contrario, mangiavi carne di coccodrillo, significava che saresti diventato un funzionario pubblico. Interpretazioni secondo il papiro del libro dei sogni dell'antico Egitto. Essere morti. È di buon auspicio perché è segno di lunga vita. Date di raduno. Grandi notizie perché gli dei ti daranno da mangiare. Seppellire un vecchio. È di buon auspicio perché simboleggia la prosperità. Riflettersi allo specchio. Un brutto segno perché avrà una nuova moglie. Bere birra. Brutta sensazione perché arriveranno le sofferenze. Mangia coccodrilli. È un buon futuro. Diventerà un funzionario. Vedere un serpente. Una controversia in sospeso verrà risolta presto. Cadono i denti. Chi fa questo sogno morirà. È conosciuto come il libro dei sogni. Perché fornisce un elenco di sogni e la loro interpretazione. In ciascuna delle righe viene descritto se il sogno è buono o cattivo. In quest'ultimo caso appare in inchiostro rosso. Anche l'interpretazione è inclusa. Prima vengono descritti tutti i bei sogni e poi tutti quelli brutti. In ogni pagina c'è una colonna che inizia con il testo. Se un uomo vede se stesso, sul retro lo scriva Kenner Jobchef. Uno dei proprietari del papiro e che compare anche su il papiro Salt. Scrisse una poesia sulla battaglia di Kadesh. La collezione originariamente apparteneva allo scriva Kenner Jobchef. Nato nel sedicesimo anno del regno di Ramses II e morto all'età di circa 70 anni. Durante il regno di Sipta. Grazie. Grazie.